Mauro Valenti è pronto a sbarcare in America portando con sé gli artisti di Arezzo Wave, P.K. Jax, Fuscada, Frida, Bollani, Magogni e Big Mama. Arezzo Wave in Los Angeles è infatti l'evento che promuoverà la musica italiana, la città di Arezzo e la regione toscana con le sue eccellenze. Perché abbiamo vinto un bando del Ministero della Cultura e della SIAE e con questo bando portiamo quattro dei migliori artisti, vedete qui, a Los Angeles, il 17 e il 18 di marzo, in un mega festival enorme che si chiama Muse Expo, noi abbiamo due serate, una delle quali faremo oltre che presentare questi artisti e andremo anche a presentare le eccellenze del nostro territorio. In quella situazione il Console Generale Italiano, quindi la massima figura dell'Italia a Los Angeles, Raffaella Valentini, porterà i saluti a tutti i vari invitati e poi ci sarà anche l'Istituto di Cultura di Los Angeles e anche l'Istituto di Commercio Estero con la regione toscana e con quindi tutti quelli che sono i nostri amici presenti a sostenere la musica italiana che cerca di entrare in America. Il Comune di Arezzo non c'è, peccato, io sono a Retino e mi fa piacere poter portare il nome di Arezzo in giro, come facciamo? Purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di avere una risposta di coinvolgimento da parte del Comune. Grazie.